Lasciate una marea di mi piace su questo video e lo rifacciamo anche il prossimo anno Ma possiamo alzare la posta in palio e mettere anche la prediction coi punti esatti Che potrebbero prendere piloti e scuderie nel campionato costruttore Mamma mia Dipende tutto da voi Dagli a cui mi piace Buona visione E vai col video Il video che tutti voi stavate aspettando ma di cui lui non è al corrente Assolutamente no Non so assolutamente nulla Ecco fatto caccia e foglietti la cosa me preoccupa Che è qua sta roba Che cos'è Nooo me l'ero scordata La reaction alle nostre prediction di inizio anno sulla classifica finale mondiale Piloti e costruttori Della formula 1 Detto questo Ciao ragazzi e ben ritrovati l'avevo completamente rimossa Mi piace per supportare i nostri contenuti State per scoprire chi ha fatto meglio tra me e lui E di conseguenza tra noi e voi Se a inizio anno in quel video avete commentato con la vostra prediction Iscrivetevi e attivate la campanella così ogni volta che pubblichiamo qualcosa vi arriva la notifica Ci abbiamo due canali youtube dove parliamo di calcio Li trovate in descrizione O durante il video compariranno qui Allora Cominciamo dalla classifica costruttori Sì va bene Qui però visto che è una classifica di formula 1 e potrebbero stacce piloti su e giù Sì Io direi di fare solo il punto se becchi la posizione Va bene Il pallino per facilitare perché se no è un pallino continuo Esatto E questo è il rischio secondo me Va bene Credo sia più Capito? Va bene Indirizzato Cominciamo dalla classifica costruttori Va bene E cominciamo dalla quinta posizione in classifica Perché abbiamo fatto la prediction dalla quinta alla prima Certo Nella realtà risulta la McLaren quinta in classifica No? Chi ci hai messo tu? L'Alpine Ti ricordi chi ci ho messo io? La McLaren L'Alpine L'Alpine pure tu Di conseguenza nessuno dei due prende il punto No Tecnicamente avremmo preso entrambi il pallino Ma non me va Non so perché Ma io fa solo appunti No no concordo Concordo Va bene Va bene Ok Poi dovesse usci fuori in una situazione di parità Andiamo a fare i pallini Va bene Andiamo a fare i pallini in quel caso Va bene Va bene Quarta posizione In classifica Mondiale Costruttori Nella realtà C'è arrivata l'Alpine Chi ci hai messo tu? A McLaren Chi ci ho messo io? A McLaren Sarebbe stato un altro pallino per uno E non ce ne frega niente Vabbè che poi sono arrivate a distanza dai pochi punti 14 punti Se vai a guardare Con tutti i ritiri davanti Così tanto Con tutti i ritiri di Fernando Alonso 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 Sarebbe stato un 127 punti in più per l'Alpine Eh va bene Non so scherzare Non mi ricordo quanto la McLaren ha avuto problemi simili Se vai a guardare solo i punti di distacco non so tantissimi Va bene Terzo posto Iniziamo a divertirci secondo me Gradino più basso del podio Nella realtà c'è la Mercedes con 515 punti Sì Chi ci hai messo tu? A Ferrari Teoricamente dovresti prendere il pallino Eh Chi ci ho messo io? La Mercedes Come fai a ricordatelo? No Buttata così a caso Ci ha messo la Mercedes Beh Un punto per me Un punto per te Perché ho beccato la terza posizione del mondiale costruttore Certo Certo Seconda posizione in classifica Nella realtà c'è la Ferrari con 554 Esatto Chi ci hai messo? La Mercedes Quindi sarebbe un altro pallino? Altro pallino Sarebbe l'incetta dei pallini Certo Chi ci ho messo io? E tu di conseguenza ci hai messo la Ferrari E ho preso Di conseguenza ci hai messo la Ferrari E ho preso il punto Certo Quindi siamo 2 a 0 per me Sì Prima posizione in classifica mondiale costruttore Nella realtà c'è arrivata la Red Bull Sì Con 1999 punti Chi ci hai messo? Ovviamente la Red Bull Prenditi il punto ma ce l'ho messa anche io Vabbè non di certo ci avevi messo la As Come Non ci può mai sapere Quindi Il campionato del mondo costruttori nostro sulle prediction 3 a 1 Lo vince il Gabon quest'anno 3 a 1 Bene Bene Ok Passiamo al mondiale piloti Va bene E alla classifica dei piloti Mamma mia In questo caso ragazzi Si parte dalla decima posizione in classifica Non potevamo predictare tutte e venti le posizioni Sarebbe stato un qualcosa di assurdo Sì vabbè Sei pronto? Dai so punto Decima posizione in classifica Nella realtà c'è arrivato Bottas con 49 punti Se non leggo male 49 Chi ci hai messo? Picciardo Che è arrivato? Undicesimo Non te lo pigli il pallino Perché abbiamo detto che non valgono Però per dire Io ci ho messo con Che è arrivato ottavo Che è arrivato ottavo Nata de nata Niente Posizione successiva di classifica Nella realtà nono C'è arrivato Alonso con 81 81 punti Chi ci hai messo tu nono in classifica? Sebastian Vettel Che è arrivato dodicesimo Se non ricordo male Io ci ho messo Ricciardo Che è arrivato undicesimo Quindi non puoi così lontano Ma a livello dei punti Non prendiamo assolutamente nulla Niente Ottava posizione in classifica Nella realtà ci è arrivato con 92 punti Chi ci hai messo ottavo in classifica? Alonso Alonso È arrivato subito sotto Però Il pallino non se lo prende nessuno Nata Settima posizione in classifica Nella realtà C'è arrivato Chuck Norris C'è arrivato Lando Norris Su McLaren 122 punti Sì Chi ci hai messo alla settima posizione in classifica? Lando Norris Chi ci ho messo io? Lando Norris L'abbiamo indovinato L'abbiamo indovinato L'abbiamo indovinato la posizione Però l'anno prossimo sai che cosa potremmo fare? Eh? Fare la prediction anche dei punti Neee E' boom Una figata Eh vabbè Sì No non mi guarda così È difficile È da fa È da fa Se può fa Lasciate una marata in piace se la volete per l'anno prossimo Sesta posizione in classifica Nella realtà c'è arrivato Hamilton con 240 punti Chi ci hai messo tu? Carlo Sainz Che è arrivato quinto Io ci ho messo Russell che è arrivato quarto Nessuno dei due prende il punto No Quinta posizione in classifica Carlo Sainz su Ferrari Con 246 punti Chi ci hai messo? Sergio Perez E' arrivato? Terzo Chi ci ho messo? Carlo Sainz E prendo il punto E prendi il punto Preso in pieno quinto in classifica Bene Quarta posizione in classifica Nella realtà c'è arrivato George Russell Chi ci hai messo alla quarta posizione in classifica? George Russell Metti del punto allora Portacci tuo Io ci ho messo Perez Stato a dire ci ho messo Carlos Perez No Carlos Perez Ho messo Sergio Perez Che è arrivato terzo nella realtà Terzo Quindi l'ho cioccato Eh già Terza posizione in classifica Nella realtà ci è arrivato Perez Chi ci hai messo tu? Leclerc Io pure Abbiamo predetto A inizio anno Leclerc terzo Ma se andiamo a guardare Per tre punti E' andata meglio Ovviamente Per noi fegaristi Ovvio Certo Ok Nessun punto Seconda posizione in classifica Nella realtà c'è arrivato Leclerc Chi ci hai messo? Lewis Hamilton Io pure ci ho messo Lewis Hamilton Ma giustamente Quindi? Nessuno dei due Ovviamente E alla prima Posizione in classifica Nella realtà C'è arrivato Verstappen Sì 3 a 1 3 a 1 Hai detto niente Sì che poi se guarda i pallini Se il pallino vale mezzo punto Io qua L'ho solo invertito Quindi ho fatto un punto E quattro pallini Non vale il pallino In quel caso Qua proprio perché Bisogna trovare un vincitore ai punti Anzi ai pallini Per dire Lo rifacciamo anche al prossimo anno Se lasciate una maria di mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi a tutti i canali Sociali in descrizione Contenuti consigliati Alla prossima ragazzi Con un nuovo video Ciao Ciao